Perché hai deciso di appoggiare Vita Mazza, sindaco di Siculiana? Ho deciso di appoggiare la candidata a Vita Mazza, sindaco, perché è una persona meravigliosa, puntuale, sincera e molto fiduciosa. Quindi ho avuto esperienza di conoscerla di persona come cittadina, quindi l'appoggio perché sono fiducioso e che faremo delle cose per il Paese. Anche tu fai parte della lista civica Viviamo Siculiana a sostegno del candidato a sindaco Vita Mazza? Sì, certamente sarò candidato per la lista Vita Mazza e metterò la faccia anch'io perché credo moltissimo per il nostro Paese. Quali sono i tuoi obiettivi? I miei obiettivi sono ovviamente comuni a quelli della lista, sono principalmente la pulizia del Paese e le piccole cose da fare per Siculiana, per lo sviluppo dell'economia siculianese.